Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in un nuovo gameplay di DefiGravity Mi dispiace di aver registrato dopo due settimane questa serie, credo, non mi ricordo da quanto non registro Ma mi dispiace anche che la settimana scorsa non sono riuscito a registrare nulla Semplicemente perché ho avuto l'influenza, quindi comunque non avevo forze e voce per registrare Più che altro mi dispiace di non aver fatto un vlog e spiegato i problemi che avevo Perché comunque non ho una webcam e mi sembrava stupido fare un video senza webcam e niente Per dire solo che ho l'influenza Poi più che altro il microfono come vedete è arrivato, già si sente meglio la differenza Che il microfono è cambiato Ora mi manca l'ultimo pezzo del microfono, ovvero l'antipop Se per caso, a volte che urlo potrebbe venire un suono fatto manco la merda Però vabbè, devo aspettare quello e tra una settimana dovrei anche prendere la webcam O almeno spero, dipende quando me la spedisce Amazon Comunque, finalmente siamo anche tornati con questa serie, ovvero cioè oggi Sto registrando adesso E... Se non mi sbaglio siamo arrivati in buon punto Dove ho sclerato anche nello scorso episodio Vabbè, come vedete siamo arrivati qui La parte più difficile, credo Vabbè, andiamo avanti Lasciamo le chiacchiere a qualcun altro Cose random, scusate Allora Cazzo devo fare qui Uno, due Vedete, è così si muore facilmente Ok, perfetto Ho paura di morire Se disattivo questo Minchia La sono visto male Cosa dovremmo fare? Non mi ricordo Qui Dovremmo fare Ok, non si fa così Aspetta, facciamo una cosa Mettiamo La pallina qui Giusto Proprio così si fa Aspetta, mi è venuta un'idea Forse potrei Potrei farcela così Non mi fa usare le palline Ok, ok, ok Ci sono riuscito Minchia Oggi mi sento molto carico Su questo gioco Possiamo dimostrare Che siamo up, ragazzi Madonna Tutto fatto bene Come vedete Sono anche ancora raffreddato Però, vabbè Sto bene A differenza di questi giorni Che sono stato abbastanza male Allora Come si disattiva quella pallina? Ok, perfetto Sì, vabbè Minchia Dai, no, 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 non andare via Non andare via senza di me Siamo rimasti un po' bloccati qui In qualche modo Aspetta, dobbiamo aspettare Un attimo che riesca Andare su questa cazzo di pallina Eh, sulla sta cazzo di pallina Su sto coso qua Non so come si chiama Un pezzo di ferro Possiamo chiamarlo Oh minchia Che cazzo è? Che cazzo? Corri Andiamo veloce Andiamo veloce Non me lo aspettavo Che all'improvviso uscisse Un raggio Dietro di me Allora Ragioniamoci Dobbiamo essere molto veloci E Fare meno Cazzate Lo sapevo Oh cazzo Perché parte così vicino Dai fammi salire Grazie Disattivati Dai che possiamo farcela Mette un po' d'ansia Quella Quella asa che ti segue dietro Però vabbè Ci possiamo Cioè ce la possiamo fare Perfetto Disattiviamo la palla Cosa cazzo devo fare? Ok devo saltare Su sti cosi Come al solito No cazzo Mio dio Il raggio è sempre più vicino Ok perfetto Ci siamo riusciti Passiamo avanti Sperando di non morire ancora Bene bene Oggi mi sento così carico Che sto facendo tutti i livelli Molto velocemente Donna Cosa è rando? E che palle Salta bene Cristo Ok 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 ce lo posso fare Dai Dai che posso Farcela Si ok perfetto Dai è stato abbastanza facile Spero Meno di questo livello Sia stato facile Dobbiamo stare un po' attenti Ok non passa niente Mi aspettavo che passava Chissà cosa Ah eccolo Passa ogni cent'anni Va bene Molto pericoloso Quell'oggetto Si ma io anche idiota Però sono Allora Lasciamo stare Ok è già No 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 Vaffanculo Ma dai come cazzo faccio? È impossibile questa cosa Ecco perché passava lentamente Ogni cent'anni Quel cosa Che palle Ora non Non ci riuscirò come prima Deve possiamo farcela Sbagliato tasto Cioè ho premuto il tasto Per togliere la gravità Che genio Di nuovo l'ho fatto Che palle però Continuiamo così Che un giorno ci riusciremo a finire Questa livello Innervoso Sto morendo ancora Per un giorno ci riusciremo a finire A questo livello Ma un giorno lontano Dai cazzo ce l'ho fatta No dove cazzo l'ho buttato Quel cosa No dai che palle Ah ma è quel coso che lancia Quei dischi lì Che cazzo sono I shurian Allora Dobbiamo fare con calma le cose Sì proprio così Con calma Con questa calma Dai sta parte è proprio difficile O almeno mi sta mettendo Difficoltà Che vi Viva la gravità Io odio sbagliare Ok perfetto Finalmente Come cazzo si leva Quel coso Ok Ok Oh minchia Saltiamo su ste parti Sto cazzo salti Devo fare le cose con calma Non devo esaurirmi così presto Siamo solo all'inizio Di questo maledetto gioco Dai che possiamo farcelo Ok perfetto Ah finalmente siamo passati Al prossimo livello Che sembra Alquanto difficile Ok Disaltimiamo questo Scendiamo qui giù Ah molto semplice Molto semplice Molto semplice Mi sembrava Molto semplice Sto cazzo Mi complico sempre La vita da solo Possiamo farcela Per domani Aspetta Ecco Non facciamo la stessa cazzata Dieci volte Proprio a dire Schiaccia la testa Sotto a quel cosa Ok possiamo Vorrei provare A velocità Mi sento oggi fortunato Minchia Molto Ok dobbiamo stare attenti Non fa Non morire da stupidi Cioè come al solito Da stupido Che minchia è Ok attiviamo lo scudo Ok Facciamo attenzione Che possiamo morirci Ah è stato abbastanza felice Abbastanza felice Questo livello Molto felice Di vedermi Allora Ah qui Qui non posso disattivare Lo scudo Comunque intendevo È stato abbastanza facile Il livello Però va bene Iniziamo a scendere Disattiviamo la palla Ti odio No Che palle Che palle Sto cosa se ne vola All'improvviso Devo fare piano Allora Sennò vola di nuovo Vabbè lasciamo stare Vai ci posso Ce la posso fare Ce la posso Minchia ce la posso fare Sì vabbè vieni qua Grazie No dai No dai Tutto da capo No Possiamo farcela Sì Possiamo farcela A morire però No 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 Calma Calma Dio la gravità Sto odiando la gravità Madonna Non finirò più questo livello Dobbiamo stare So che dobbiamo fare le cose con calma Però Vedi La calma del cazzo Fa morire presto A lentezza Dio Vai ora Ce ne dobbiamo approfittare Io Io ti odio Ti odio Mi sono ucciso da solo Non finirò più questa parte Dai che possiamo farcela Proprio così si fa Sto giocando male Scusatemi Ma in qualche modo dobbiamo finirlo Oh mio dio Ah finalmente siamo andati avanti Cosa devo Ah dovrei sempre camminare con questo In teoria Giustamente Sì vabbè non mi Ok possiamo andare Corri Corri Questa cosa è così lento Allora dai possiamo farcela Sto cazzo possiamo far Ok perfetto Noi continuiamo a camminare con questo Credo che questo non ci serva più In teoria Proviamo Almeno credo Credo male Oh mio dio Ora dovrei morire Dai possiamo farcela A finire questo livello Almeno questo Dobbiamo stare No mi sono dimenticato Come prendere una cosa E rischiare la vita Dai colpi random Che possiamo Oddio Sembra quanto difficile Questa parte Ok devo disattivare questo Continuiamo ad andare avanti Mio dio mi sono visto Leggermente morto Madonna L'ansia a questo gioco Ti mette più ansia a questo gioco Che Diversi giochi Va bene ragazzi Credo che è meglio che ci fermiamo qui Siamo riusciti a fare Credo 3 4 5 livelli Non ricordo Perché non li ho contati Ci vediamo nel prossimo episodio Spero che questo video Vi sia piaciuto E lasciate un commento Un mi piace per il video E iscrivetevi anche Alla pagina facebook Che trovate in descrizione In questo video Ciao a tutti ragazzi Al prossimo episodio